L'albero di Natale L'albero di 25 metri, un bellissimo abete rosso, che è stato sapientemente tagliato dai boscavioli locali, è stato portato a valle ed arriva in Vaticano per essere illuminato il 9 di dicembre. Il 9 di dicembre ci sarà questa grande cerimonia di illuminazione con i cori trentini, ci saranno anche i prodotti di qualità trentina e soprattutto ci sarà un'illuminazione speciale di questo albero proprio per la sostenibilità ambientale. Verranno scelte solamente delle lampadine a led a basso consumo energetico e visto che abbiamo tagliato un albero si è provveduto grazie ai ragazzi delle scuole alimentari a piantare altri 40 piante di larice e diabete in una zona vicina, sempre in Valcampelle, proprio per far sviluppare ulteriormente e rinnovare anche il bosco. Che comunque prende piacere, il bosco c'è. Il bosco c'è, è molto molto ricco, infatti anche quando si scia da noi diciamo, si ha questo paesaggio dei grandi boschi del lago Rai, un paesaggio davvero unico. Infatti, bellissimo. E andiamo di qua. Devo ricordare Base Tuono perché noi abbiamo accennato una volta tanto tempo fa ed ha incuriosito molte persone, perché non tutti sono a conoscenza che c'è, però vale la pena. Sì, Base Tuono è un ex base nato che è stata ripristinata, è stato oggetto di un progetto che ha portato a far nascere questo, oggi a tutti gli effetti un museo della guerra fredda. Per i ragazzini quindi è molto interessante, anche per gli adulti. Sì, è molto interessante, registra tantissime visite. Durante l'inverno è chiusa perché ovviamente è sommersa dalla neve, però durante le ciaspolate le testate missilistiche sono ben visibili, quindi si può comunque vedere, non si può visitare. Si trova a Passo Coe, proprio lungo il centrofondo. Riapre in primavera. Riapre in primavera, di solito verso maggio, appena possibile, la base riapre, rimane aperta per tutta l'estate ed è una delle tante cose visitabili con la Trentino Guest Card, questa card che lega tutto il Trentino. Che funziona anche d'inverno, viene offerta gratuitamente ai nostri ospiti da tutti gli alberghi soci dell'azienda per il turismo ed ha libero accesso a tutta la rete museale del Trentino e ai mezzi di trasporto. Quindi un valore aggiunto per la vacanza in Trentino, la vacanza sull'Alpecimbra molto importante. Perfetto. Le strutture alberghiere sono anche strutturate per famiglie, per chi ha bambini e anche per disabilità persone anziane, è vero? Sì, per quanto riguarda le famiglie, l'attenzione dell'Alpecimbra rispetto ai bambini e alle famiglie è da sempre altissima. Abbiamo all'incirca 10 family hotel e residence, quindi strutture fortemente attrezzate per l'accoglienza delle famiglie. Essere un family hotel non significa semplicemente avere la culla o avere uno spazio dove poter far giocare il bambino, ma mettere a disposizione tutta una serie di servizi e anche l'intrattenimento. Oggi da parte di questi hotel viene proposto un programma che si chiama Family Emotion, è un programma di intrattenimento e animazione d'inverno anche in collaborazione con le scuole di sci, che si prende cura dei più piccoli dalla mattina fino alla tarda sera. E i genitori? Sì, ecco, vorrei fare un appunto. I genitori, come dire, inizialmente ci siamo preoccupati di dire, beh, i genitori vogliono venire in vacanza, vogliono del tempo libero, vogliono affidare i bambini. Allora, adesso i più grandi protagonisti del programma Family Emotion sono i genitori. Allora, è un programma talmente bello e coinvolgente che poi prevede tantissime attività sul territorio. D'inverno abbiamo la camminata con le lanterne nel bosco. Forza, mettete cose allettanti. E quindi è un modo anche per far stare insieme la famiglia in modo divertente, dove ognuno trova una bella motivazione. In realtà, quando il genitore vuole, può prendersi i suoi spazi, sia per fare dello sport o per andare nei centri wellness delle strutture. Che ci sono anche i centri wellness. Ci sono anche i centri wellness, sono molto belli, ovviamente con piscine, saune, idromassaggi, piuttosto che percorsi terapeutici di vario genere e tipo. E anche nella stessa Malga Mille Grobbe, sempre a Mille Grobbe, con questa scuola di sauna veramente unica. Quindi ci prendiamo cura veramente di tutti, anche di chi ha qualche problema. A noi non piace chiamarlo problema, in quanto l'Alpecimbra è una destinazione accessibile. In particolare nella schiarea di Folgaria Fiorentini, il comprensorio è interamente accessibile alle persone con disabilità. Uno dice, ma che cosa significa? Significa soprattutto che le persone che hanno una disabilità motoria, quindi sitting, possono muoversi liberamente all'interno di tutta la schiarea. Questo grazie al fatto che in tutti i rifugi e bar sulle piste trovano una sedia a rotelle. Quindi possono lasciare la loro ovviamente in macchina, muoversi con lo sci particolare che utilizzano e quando vogliono prendere un caffè, entrare al rifugio, farsi dare la carrozzina e quindi poi muoversi all'interno del locale. Questa è una cosa che a noi può sembrare banale, invece è importantissima perché possono godere veramente di tutte le piste. Il personale degli impianti ha fatto dei corsi per l'accesso proprio all'impianto. Il risultato più bello che noi abbiamo raggiunto è che in realtà non sono persone diverse, non sono persone disabili, ma sono degli sciatori con delle esigenze particolari a cui la località ha saputo dare prontamente una risposta anche da un punto di vista delle strutture alberghiere e quindi ci sono una serie di hotel che hanno seguito proprio un protocollo un po' particolare perché l'hotel non è un ospedale, ma ha quelle attenzioni per cui tutti ci si trova bene all'interno della struttura. Ci dovrebbero avere tutti quanti, sono dei lavori importanti. Le piste da sci, abbiamo accennato cosa si trova in zona della Val Sugana, quindi ci sono queste piste che poi erano anche famose, insomma, anche in passato. Da voi cosa succede quest'anno? Da noi ritorniamo con la nostra proposta di 100 chilometri tra la schiara di Lavarone e di Folgaria. Sono collegate? Allora, sono collegate con un servizio di ski bus, Lavarone a Folgaria, esattamente 74 chilometri di piste a Folgaria, 30 a Lavarone, un unico ski pass che permette di sciare su entrambi. Se non volete usare la macchina c'è uno shuttle di collegamento tra le due schiare. Per dare il benvenuto a tutti, sia sull'Alpecimbra che sul Lago Rai, 17 dicembre, segnate questa data. Una collaborazione tra le scuole di sci, noleggi e società impianti, per cui avrete la possibilità, per chi deve imparare a sciare, di avere due ore di maestro gratis, quindi sarà gratis il maestro, il noleggio e lo skipas, quindi dedicato a tutti coloro che vogliono provare questa nuova esperienza, sperando che ne restiate così affascinati da continuare per tutto l'inverno a frequentare le nostre piste. Ah sì, molto importante, perché così si incomincia ad approcciare. Due che siete tecnici, a che età ci hanno anche chiesto, si consiglia di iniziare? Non abbiamo qui proprio il maestro di sci come in passato, però insomma, magari proseguere, avremo l'approccio con gli sci. Allora, è abbastanza soggettivo, diciamo che intorno ai 4-5 anni tutti i bambini possono essere avviati tranquillamente alla pratica dello sci alpino sotto le cure dei maestri di sci, questo è fondamentale. Vorremmo sfatare, anche continuiamo a dirlo, ma perché è importante, sciare non è pericoloso, lo è molto meno che fare qualsiasi altra attività, le società impianti mettono in campo tutti i sistemi di sicurezza necessari, la sicurezza sulle nostre piste è altissima, gli impianti stessi hanno dei sistemi di protezione dei bambini, quindi la safety bar o questi blocchi per impedire la caduta del bambino, i bambini giocano, quindi a tutto quello che si può prevenire ci abbiamo veramente pensato. Devono iniziare con i maestri perché l'inizio deve essere un gioco. Tante volte vediamo i genitori che magari non sanno neanche loro sciare e dicono al bambino come sciare. È chiaro che a quel punto il bambino dopo un po' si stanca e si demotiva e non scia più. Affidato alle scuole di sci, veramente in due o tre giorni il bambino scia dappertutto perché lui non ha paura, ma si diverte. Perfetto, siamo arrivati al termine. C'è qualche data importante al volo? Sì, vi do alcune date relative agli eventi nel mercatino. Avremo un presa per i 20 il 24-26 dicembre. L'8 dicembre avremo anche la sfilata sburgica con questi figuranti e il ballo. Avremo poi le feste gastronomiche insieme ai vari prodotti locali, quindi varie occasioni per venire in Valsugana. Vi do solo un'indicazione al nostro sito che è visitvalsugana.it dove potete trovare anche le varie offerte famiglie, anche per lo sci a basso costo. Avete delle proposte a 22 euro a persona al giorno, schipassi incluso. Quindi anche per chi vuole provare a sciare non l'ha fatto finora. Trasversale. Voi date particolari? Allora, tantissime date perché gli eventi sono tantissimi. Scegliete quello che più vi piace sul sito alpecimbra.it. Se volete degustare queste cose portate i saluti alla signora Mirella del Maso Enger a Costa. Ah, quindi portate i saluti alla signora Mirella e c'è la sorpresina che fa assaggiare qualche cosetta particolare. Esatto, di sicuro. Evi pronta ad accogliervi. Perfetto, grazie alle nostre ospiti, grazie a voi di averci seguito, di aver partecipato. Allora, buon viaggio di rientro in un luogo salubre, senza dubbio molto molto rilassante, piacevole e sportivo, perché naturalmente voi già vi state preparando e allenando. E a voi buon proseguimento. Ci ritroviamo domani. Grazie a tutti.